È un'importante manifestazione dove pensiamo che ha fatto già seguito alle precedenti manifestazioni e presidio su tutti i territori nazionali e su tutte le regioni. Ci aspettiamo che il governo con questa iniziativa possa migliorare e rivedere tutte queste riforme, pensando alle riforme che hanno portato a difficoltà sui lavoratori, sulla precarietà, sulle pensioni, che ci sia una vera iniziativa di poter trovare soluzioni migliorative rispetto a tutti questi decreti e riforme che stanno venendo fuori.